Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che a tratti sarà ancora caratterizzata da un pochino di variabilità, ma si va verso una situazione sempre più stabile e nel weekend già vi anticipo temperature e tempo estivo in gran parte dell'Italia. Ma per questo venerdì ancora appunto qualche temporale riuscirà a formarsi. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista sul nostro paese da quel punto di vista non mancheranno ampie zone di sereno, però qualche nuvoletta di passaggio ci sarà ancora. Nel pomeriggio si formeranno degli annuvolamenti un po' più consistenti soprattutto a ridosso delle zone montuose ed è lì che avremo i temporali più probabili e più diffusi, quindi giornata che da un punto di vista delle precipitazioni non ci regalerà brutti scherzi, però nel pomeriggio appunto si formeranno nuovi temporali sulla fascia alpina prealpina coinvolta in parte anche l'alta pianura padana e poi lungo la dorsale appenninica. Però fenomeni sempre meno intensi e diffusi, quindi in definitiva ci attendono venerdì a tratti diciamo ancora un po' variabili, però non mancheranno ampie zone di sereno. Queste acquazioni temporali dovrebbero rimanere confinati alle zone montuose e eventualmente raggiungere fasce costiere dell'estremo ponente ligure del basso Tirreno e poi qualche breve piovasco al nord-est, ma ripeto weekend da piena estate. Per sapere in ogni caso nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.